come dici si ho capito lo so che io te lo faccio qui per me che non per il bambino però la verità la macchina mi piace per a me quindi vanno alle ciance lancia la sigla salve a tutti sono mister camarium se l'avete già fatto cliccate su i pulsanti scritti e sulla campanellina e sempre avvisati oggi vi voglio presentare un oggetto che mi è arrivato da amazon grazie al fatto che avendo questo canale riesco ad avere queste convenzioni con questo grande negozio questa macchina lo me la sono accaparata subito visto che comunque ho visto che era in grado di stare su tutte le superfici l'ho provata è così ha un'autonomia di circa due ore perché ha delle batterie normali però di la verità osservandola bene è possibile anche a portare delle modifiche perché mio figlio ha detto va se puoi fare delle modifiche perché vorrei un'auto migliorata effetti questa qui adesso facendo se vedete anche le luci frontali e questo è una pecca perché se io non voglio usarle di giorno non posso escluderle quindi apporterò una modifica in modo che le luce le luci si accenderanno in modo del tutto automatico quando comincia a calare il buio fare in modo che si accenderanno anche queste qua superiori e gli stup dietro poi nel progetto successivo ve lo farò avvenire il telecomando è questo qua trasmette sui due giga e quattro quindi ha una portata molto lunga effetti ho provato a farla andare più oltre 100 metri e poi dovrà andare avanti però visto che comunque non abito una zona dove si possa avere un largo spazio senza incorrere in qualche incidente con qualche auto mi sono fermata 100 metri quindi vi faccio vedere il video dimostrativo di come ho messo alla prova quest'auto e vi ricordo che metterò anche un link se avete intenzione di comprarla buona visione buona giornata e un buon divertimento per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti